Il Battistero San Giovanni Scopriamo il Battistero di San Giovanni nel pittoresco borgo di Vigolo Marchese, incastonato tra le colline e i vigneti. Vigolo, con la sua chiesa romanica e il Battistero dell'undicesimo secolo, racconta storie di fondazioni monastiche e reliquie antiche. Fondata da Oberto II, la chiesa custodiva reliquie preziose e fu posta sotto la giurisdizione papale. Nel corso del tempo, il monastero si arricchì grazie a donazioni, ma fu anche teatro di dispute e contese. Una bolla del 1135 rivela il declino del monastero, che passò sotto il controllo della Cattedrale di Piacenza. Il monastero attraversò periodi bui, devastato da incendi e lotte, ma sempre sostenuto dalla fedeltà alla chiesa. Vigolo Marchese rimane un testimone silenzioso di secoli di storia e spiritualità. Custodendo fede e arte.